Un'idea di promozione territoriale che arriva dall'Associazione Sviluppo Aria Porto, Carlo Esposito, avete in mente di realizzare un cortometraggio proprio sulla storia e sulle risorse produttive della città di Torre del Greco? Questa è un'idea che abbiamo maturato da qualche giorno perché è un'opportunità unica, visto anche la presenza sul territorio di una grossa casa produttrice di film e allora ci siamo detti, parlando con degli attori, perché non pensare a qualcosa di promozione torrese, in particolare artigianato. Infatti ci siamo incontrati con Giuseppe Moscarella che come sapete è Mister Italia 2020 e fa l'attore anche abbastanza quotato e quindi abbiamo pensato a questa cosa. Già è stata fatta una prima bozza di trama che adesso svilupperemo, avremo anche la possibilità di promuoverla l'associazione di categoria artigianali e vediamo un po' che cosa succede. Chi pensate di coinvolgere? Innanzitutto le categorie artigianali, quindi vediamo un attimo quelli che lavorano nel Corallo e il Cammei, quindi la Socorra, le altre associazioni di categoria, se sono interessate a sviluppare e a promuovere questo progetto. E poi chiaramente con finanziamenti che tra l'altro in questo periodo ci sono per produrre chiaramente poi tutto il cortometraggio. Quindi se tutto andrà in porto vedremo questo cortometraggio l'estate prossima? No, io penso prima per la verità perché questa cosa è nata così per caso ma sta avendo parecchio interesse e quindi può essere pure in autunno se tutto va bene. Giuseppe Moscarella, attore, anche tu sei coinvolto in questa idea di un cortometraggio che valorizzi le risorse produttive della città di Torre del Greco, quindi in particolare il Corallo e il Cammeo. È una grande iniziativa, con Carlo ci siamo incontrati in questi giorni, l'idea è quella lì proprio di far nascere e di portare avanti appunto una storia che parli della nostra città, del cuore pulsante di Torre che sia quest'unione tra appunto una montagna così importante come il Vesuvio che abbiamo e il mare. E tutto questo appunto coadjuvato da quella che è una delle nostre più grandi ricchezze che appunto è l'artigianato. Adesso dà l'idea come si passerà alle fasi successive? Allora intanto spero che ci sia l'appoggio di tutti i miei colleghi che ne sono tanti sul territorio torrese, quindi se vogliamo fare un ulteriore appello appunto a quelli che sono i giovani artisti ma anche qualcuno che non è più tanto giovane ma che può prendere comunque attivamente parte al progetto. E a Torre di Talenti ce ne sono tanti? Torre comunque molto conosciuta per essere comunque la culla di tanti artisti che comunque hanno alloggiato qui, non per ultimo Leopardi che ha avuto una grandissima rilevanza, penso che non ci sia bisogno di dire che cosa sia stato per il patrimonio culturale poi del paese.